L'attività di Christian Pigagliani nasce da un vero e proprio graduale percorso formativo culminato con il diploma di Capo Mastro ed un parallelo percorso lavorativo con il raggiungimento dell'apertura di Edil Molini. La vasta esperienza nel settore edile ha reso la Edil Molini un punto di riferimento nelle attività di restauro di interni ed esterni, finiture e risanamenti. La professionalità e la precisione che solo un artigiano può dare traspare nella realizzazione di dettagli che fanno la differenza ed ecco come un rustico di campagna possa essere completamente rissanato in ogni sua parte. Dalla sottomurazione alla copertura del tetto possiamo affrontare varie opere. Il raffiacimento della sottomurazione, la creazione dei Vespai areati con l'esterno ha le finiture interne ed esterne di vario genere con la realizzazione di tetti in legno curati in ogni loro aspetto. Con uno sguardo all'estetica senza tralasciare mai le soluzioni più moderne ed efficaci. Per finiture ecco un esempio di come gli elementi architettonici più belli e caratteristici del passato possano essere restaurati per arredare il presente. Come il recupero dei gradini in pietra con la tecnica della sabbiatura e della ringhiera recuperata rispettando le tecniche del passato con il fissaggio con colatura a piombo. E a seconda di come vorrete personalizzare i vostri interni, la Edil Molini realizza rivestimenti in ciotto e le marmi assecondando ogni vostra esigenza. La Edil Molini realizza bagni e chiavi in mano, manutenzioni di stabili commerciali e condominali e vi aspetta con la disponibilità a effettuare sopralluoghi preventivi gratuiti a San Michele Extra di Verona.